Quarto mistero glorioso L'assunzione di Maria Vergine in cielo L'addormizione Il dono della cintura La festa mariana più importante dell'Oriente Cristiano fin dal VI secolo è l'addormizione ed assunzione della Madre di Dio Ti sei addormentata, sì, ma per non morire Sei assunta, ma non smetti di proteggere il genere umano Teodoro Studita L'icona dell'addormizione trae la sua fonte di ispirazione principalmente dai testi apocrifi che riassumono la tradizione dei primi secoli della Chiesa circa il transito della Beata Vergine Maria Si distinguono nell'evento glorioso quattro episodi Primo, annunciazione del transito Secondo, dormizione Terzo, incoronazione Quarto, il dono della cintola Narra lo pseudo Giuseppe d'Arimatea Nel transito della Beata Maria Vergine che il Santo Maso fu trasportato miracolosamente dopo gli altri apostoli sul Monte degli Olivi dove ricevette da Maria assunta la cintura con la quale avevano legato il suo corpo nella sepoltura Nella parte superiore dell'icona è raffigurata la Beata Vergine dentro un clipeo sorretta dagli angeli nell'atto di donare la cintura a Santo Maso mentre viene assunta in cielo O Vergine, le acquile ad alto volo del Verbo rapite sulle ali delle nubi e convenute a Gezzemani acclamarono te che stavi per spiccare il volo verso il cielo Giuseppe l'innografo La cintura è la prova dell'assunzione in cielo della Madre di Dio in anima e corpo e tesa tra cielo e terra mostra il ruolo di Maria come mediatrice tra Dio e gli uomini La devozione alla Madonna della cintola è riconosciuta anche a Santa Maria del Monte sopra Varese O Madre di Dio la terra e i celesti si rallegrano per il tuo trasferimento avendo ottenuto per tuo mezzo di essere paradossalmente uniti O Madre di Dio degna di ogni lode gli angeli del cielo si sono rallegrati mentre accoglievano te portata dalla terra Giuseppe l'innografo Grazie a tutti all'affreddere Grazie a tutti